I Galletti pronti a vivere un incontro cruciale in trasferta contro la Ternana. Dall'Umbria passano i sogni play-off. Un sogno che sino a qualche mese Orsona era una chimera per un Bari ora volitivo e ambizioso. Buttino pieno fondamentale per la squadra pugliese e anche ragione del punto di penalizzazione da ultimo maturato. Una decisione questa che fa seguito a ritardo nel pagamento degli stibendi del periodo ottobre-dicembre, inflitta poi al club di Via Torrebella a un'ammenda di 7.000 euro. I Biancorossi quindi domani punteranno la vittoria che risulterebbe la quarta di fila fuori casa e che lancerebbe effettivamente i Galletti nelle bagarre per il salto di categoria. Tra le fila del duo Alberti Zavettieri a mancare gli appiedati Enrico Guarno e Daniele Ciaudone. I due Galletti ammoniti contro il Padova sono stati squalificati per una gara dal giudice sportivo. Importa quindi pena ma a centrocampo dubbi di formazione. Romizzi dall'altra non sarebbe in perfette condizioni. Certa l'assenza di Fossati, Lugo e Del Vecchio per un posto da titolare. Attenzione al diffidato Nadarevic giunto alla terza sanzione di campionato. I Rosso Verdi domani cercheranno di salvarsi e in casa venderanno cara la pelle. Una compagine quella Umbra che con il trainer Tesser hanno modificato la propria fisionomia in campo passando da un 3-5-2 a un 4-3-1-2 che sembra prestarsi bene alle dinamiche in campo della Ternana. I padroni di casa dovranno fare a meno di Pavel Farkas che lamenta una contusione al ginocchio destro. Prova del 9 quindi domani per il Bari che da calendario al San Nicola poi dovrà ospitare la Juve Stabia e fanaglino di coda a questo che offrirebbe ai Biancorossi l'occasione di un allungo playoff. Il Bari scalda i motori.